Lunedì 23 gennaio, benvenuti all'edicola di SkyTG24, notizia in primo piano sui quotidiani nazionali dalla visita del Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, in Algeria. Tra l'altro oggi è un lunedì dove si parlerà di armi perché si voterà per il sesto pacchetto da inviare a Kiev, in Ucraina, tema guerra che rientra nelle prime pagine. Sul mattino invece la chiama alle armi, il voto definitivo dopo il Senato, ci sono anche missili terra aria, la Lega solleva dei dubbi sull'efficienza delle sanzioni alla Russia, la spaccatura in politica PD, Terzo Polo, Guerra Fondai, Movimento 5 Stelle, Pacifista, Mosca ha avvertito la fornitura di armi offensive a Kiev, porterebbe a un disastro globale e Meloni passa la segna alle truppe ad Algeria.